Pasquetta in bici 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 è il grande Carmine che ha chiuso le cave a 16.04 il nostro segretario segretario stiamo festeggiando il suo compleanno stava dando lui qua abbiamo il nostro grande Gianni e poi c'è il grande Merlello che è la motta che fa le cave e allora come ci sono quasi queste cave eccoci qua qua abbiamo anche Lello aspetta non ti vedo eccoci qua adesso ti vedo dai eccoci qua in diretta abbiamo anche il nostro socio socio fatemi sentire Lello dici qualcosa dai siete sempre eccezionati siete sempre eccezionati ma passate sempre cari che è una cosa bella eh certo grazie grazie si è emozionato dai siamo qua al bar l'emozione il compleanno di Giuseppe che ha compiuto gli anni e ok ciao alla prossima grazie ecco qua il video le donne di Giuliano e il mitico parco ilpino siamo raggruppati com'è andata ragazzi alla grande dai dobbiamo solo ripetere un vero viaggio ok è Soci stagge eccoci 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 Grazie a tutti